Si va normalizzando a Pescara la situazione del territorio dopo l'emergenza neve cominciata la notte di giovedì scorso e che ha visto impegnata la protezione civile con il coordinamento del centro operativo comunale. Oggi sono tornati al lavoro gli spalatori reclutati dal comune, sono circa 40 unità che stanno liberando soprattutto marciapiedi e bordi delle strade dei cumuli di ghiaccio e neve, che poi la attiva provvede man mano a ritirare. L'obiettivo è quello di riportare alla normalità il più in fretta possibile la città, dichiarano gli amministratori comunali, specie a fronte dei nuovi bollettini meteo della protezione civile, che da domani notte hanno previsto una nuova ondata di maltempo, con nevicate anche su Pescara che dovrebbero proseguire con forte intensità per tutta la giornata di venerdì. Il centro operativo comunale resterà allestito quindi fino a fine settimana all'interno del comando della Polizia Municipale in via del circuito, annuncia l'assessore alla protezione civile Berardino Fiorilli. Oggi la neve ha lasciato spazio alla pioggia, tanto che le strade della città sono tornate percorribili anche senza gomme termiche o catene. Pronti comunque altre 800 quintali di sale da utilizzare se dovesse arrivare altra neve, come le previsioni meteo annunciano.